Continuano le iscrizioni per partecipare all'iniziativa Tester per un giorno, che questo mese, grazie alle redazioni di Safe Drive, Automobilismo e il giornale .it, vi permetterà di scoprire Hyundai i30, la berlina 5 porte coreana che nella sua nuova veste porta in dote un design più aggressivo e un abitacolo più accogliente. La nuova compatta della casa coreana è una vettura confortevole e sicura, che risolve il problema di chi vuole guidare un'automobile che non passa inosservata senza doversi svenare per acquistarla. Equipaggiata con motori benzina e diesel, con potenze comprese tra i 90 e i 135 CV, la nuova generazione di Hyundai i30 ha un aspetto più muscoloso e dinamico e può contare su degli interni completamente rivisti. Gli altri suoi punti di forza? SP di serie, basse emissioni di CO2 e costi di esercizio contenuti. Se non volete perdere l'occasione di testarla insieme a noi, iscrivetevi entro il 12 aprile attraverso il forum che trovate sui siti dei media partner dell'iniziativa. Il fortunato vincitore potrà guidare la nuova Hyundai i30 e realizzare un servizio televisivo, nonché scrivere due veri articoli giornalistici che verranno pubblicati sul mensile Automobilismo e sul quotidiano online ilgiornale.it. Buona fortuna!